Migrante nudo passeggiava in via nazionale Cassibile. A un migrante gli è andato di volta la testa, si è denodato in veste ad amitica sfoggiato per via nazionale Cassibile, una via centralista nel quartiere che collega il sud del capoluogo. L'uomo di colore si aggira tutto nudo per le strade di Cassibile, una scena che ha destato stupore tra i residenti che hanno assistito alla scena con l'uomo imperturbabile che ha preceduto lungo il cilio della strada. Sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno prelevato l'uomo e trasportato in caserma per gli approfondimenti del caso. L'episodio non è passato inosservato, soprattutto perché è avvenuto in pieno giorno alla presenza di numerose persone, anche bambini. L'episodio è avvenuto nel pieno centro di via nazionale Cassibile. L'ennesimo episodio sconcio che ha destato indignazione tra i cittadini, gli automobilisti che increduli hanno visto scene a noi non consone, dice l'ex presidente della circoscrizione Paolo Romano. Non voglio ritornare sempre sulle stesse cose dette, ma non se ne può più. La cosa che fa più rabbia è l'indifferenza delle autorità, sindaco, prefetto. Cosa fate e cosa intendete fare?